a partire 5 4 3 2 1 1 50 vista a centro-destro per la piatta a sinistra 4 in destra 4 sta a sinistra all'impianta a sinistra 5 in destra 5 no RL destra 5 subito subito a destra 4 vai 100 destra 4 taglia destra 4 vai 50 attenzione a centro-destro per la piatta grande destra ok allora sinistra 5 sali di sinistra 4 meno giù da 3 sinistra 4 meno giù da 3 sinistra 3 a metà rail sinistra 2 taglia sinistra 2 taglia sinistra 3 taglia sinistra 4 subito destra 3 sinistra 4 subito a destra 4 due tempi destra 4 due tempi è lo schiazzo sinistra 3 meno apri in destra 5 sinistra 3 apri in destra 5 taglia destra 5 taglia cartello destra 4 taglia destra 3 meno destra 3 meno sinistra 3 in destra 3 telecombe sinistra 3 in destra 3 no taglia sinistra 4 ritaglia sinistra 4 sinistra 4 roto lungo per attenzione subito sinistra 3 meno roto lungo sinistra 3 meno sinistra 3 subito a destra 4 giù da 3 apri destra 4 giù da 3 apri è lo spiazzo sinistra 3 meno sinistra 3 meno e rail destra 4 in destra 4 meno in destra 4 taglia ai vertelli destra 4 no vai 5 destra 4 no vai 5 in destra 4 la giù da 3 ah si giù da 2 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 subito destra 4 no destra 4 pieno 30 sinistra 3 meno destra 4 taglia in destra 4 in sinistra 5 giù da 3 destra 4 in sinistra 5 giù da 3 belle golvi destra 3 subito sinistra 4 in destra 3 meno apri 4 destra 3 meno apri 4 subito sinistra 3 meno meno in destra 4 taglia in destra 3 sinistra 2 in destra 4 in destra 5 apri in destra 5 apri a perdere le parole in sinistra 4 apri in destra 4 in destra 4 alla casa sinistra 4 meno vai sinistra 4 meno vai a partello chicane entro sinistra sinistra eh a giallo sinistra 4 giù da 3 meno meno dopo corri in destra 5 sale in destra 5 sale la casita marrone tornante in destra e la punta fuori sinistra 3 e la pianta e la pianta destra 3 meno e la pianta in torrente sinistra oggi vuoi fare passata del primo allarghi ti vai guarda per il pianto di destra e qui subito destra 5 vai ok 30 a cartello sinistra 3 in destra 4 giù da treno destra 4 giù da treno in sinistra 3 meno meno no sinistra 3 meno meno no taglia alla casita destra 3 vai 50 destra 3 vai 50 vai dupo casa sinistra 4 giù da treno destra 3 giù da treno sinistra 3 sinistra 4 destra 3 giù da treno sinistra 3 alla casa sinistra 3 meno apre diventa 4 e al ponte sinistra 3 non è appena apre diventa 4 e al ponte destra 2 2 tempi 20 destra 2 2 tempi 20 al triangolo sinistra 3 lungo vai 20 sinistra 3 lungo vai 20 destra 4 destra 4 meno no e al ponte destra 4 meno no e al ponte molta attenzione destra 2 destra 2 sinistra 3 non è appena apre e al ponte destra 2 meno destra 2 meno sinistra 3 subito molta attenzione destra 2 meno subito destra 2 meno e sinistra 3 2 tempi 2 tempi 2 tempi al ponte destra 2 meno in sinistra 4 in uscita taglia sinistra 3 meno no subito destra 3 sinistra 3 meno no subito destra 3 taglia rail destra 2 in sinistra 3 meno sinistra 3 meno in destra 4 taglia destra 4 in destra 3 in destra 3 sinistra 4 e al muro destra 4 in destra 4 meno in destra 3 sinistra 3 destra 4 in destra 4 2 tempi in sinistra 3 subito destra 3 meno destra 3 meno sinistra 3 destra 3 in destra 3 in rail sinistra 4 meno no in sinistra 4 in accetto sinistro in accetto sinistro in aperta sinistra 3 no in destra 5 no in destra 5 in destra 4 in destra 4 in destra 5 no subito sinistra 3 apri sinistra 3 apri sinistra 3 no e al destra 4 no e al sinistra 3 vai 100 sinistra 3 vai 100 al triangolo destra 5 destra 5 vai 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 in destra 5 in destra 5 sinistra 3 qui è per rail destra 3 2 tempi su 1000 PS destra 3 vai tempo vai 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 belle due camere un po carino prena che c'è uno stop e se no si fa un problema